Le prime notizie storiche di Casal Velino sono datate a prima del l'anno 1000 d.C. Tra le risorse architettoniche più importanti, è possibile visitare la Corte dell'Assunta, la Corte della Madonna delle Grazie, la Corte della Madonna delle Grazie, e la Cappella di San Matteo, dove i bambini dell'Apostolo Matteo sono stati. Il Museo Casa Contadina è molto interessante, il suo entrante è libero. La città che c'è sul parco nazionale del Cilento e sul Vallo di Diano è riuscita dal rivero di Alento e i amici di natura possono dipendere nella scuola mediterranea. Includa la vegetazione. Le planti più diffusate sono i sorbi, i bambini e i hato. e i bambini e i bambini e i bambini e i bambini. Grazie.